Voglio presentarvi oggi questo meraviglioso Bibanda Kenwood che era uno dei migliori se non il migliore negli anni 90. Si tratta del TH78. Possiamo dire che abbiamo in mano la versione ricca del TH28. Anch'esso ha un buon prodotto ma non completo di funzioni come questo. Un amico me lo ha regalato come non funzionante. Dopo quasi 30 anni in cantina lo ha ripreso in mano ma non si accendeva. Trovo questo Kenwood molto compatto. Le dimensioni sono quelle dei cellulari che si usavano a quei tempi. Una radio molto sfiziosa da maneggiare. Ha anche la protezione scorrevole della tastiera. Cosa non scontata sulle Bibanda. Arriviamo quindi alla botta di fortuna che ho avuto quando ho misurato col tester il caricabatteria della radio. Ebbene non usciva tensione. Probabile causa della mancata accensione della radio. Esattamente. Ho confrontato le caratteristiche del caricabatteria del TH78 con quelle di un mini TV Epson in mio possesso che non usavo da anni. Ho quindi saldato adesso lo spinotto del caricabatteria e guasto ed ecco la sorpresa. Non mi voglio dilungare sulle innumerevoli funzioni che voi appassionati sicuramente conoscerete. Dopo giorni di test posso dire che non si presenta il difetto che accomuna queste radio relativo ai condensatori. La radio ancora funziona molto bene. Al prossimo video. Ricordate. L'elettronica vintage ha ancora tanto da dire.